Che cosa ci insegna Kepler? Non penseremo solo a noi stessi. Non ci lasceremo guidare dalle emozioni. Lotteremo per l'umanità. Per l'umanità. La chiamavamo Madre Terra. L'abbiamo derubata di tutto ciò che offriva. Tutte le tecnologie per la riproduzione sono state un totale fallimento. Vogliono la prova che qui possiamo procreare. Sopravvissuti. C'era una bambina, Tugger. Se non possiamo comunicare, niente ha più importanza. Mayra! Perché mi stai seguendo? Voglio aiutarti. Abbiamo aspettato tanto. Mi dispiace di non poterti accogliere così. In questo momento è essenziale portare qui la nostra gente. Arriveranno. Nel caso non lo avessi notato, la razza umana non ha bisogno di voi per sopravvivere. Per l'umanità. Sei ancora con noi. Per l'umanità! 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 Nessuno di noi doveva tornare. Per l'umanità!